Buonasera, prego. Buonsoir e benvenuti a tutti. Hallo und herzlich willkommen. Yes, hello and a heartfelt welcome to all of you. Buonasera e benvenuti. Wir laden euch ein zur internationalen Wunsch Friedensmeditation. Vi invitiamo alla meditazione internazionale della pace. Yes, we would like to invite you to the international wish and peace meditation. Nous vous invitons alla meditazione internazionale pour la paix dans le monde. Am Donnerstag, den 13. März 2014, um 20 Uhr. Giovedì, il 13. März, alle ore 20. At Thursday, the 13th of March 2014, at 8 p.m. MET. Le jeudi 13. März, a 20.15. Bitte sagt es allen euren Freunden weiter. Ditelo ai vostri amici e amiche. Yeah, please tell all your friends. Ditele a tous vos amis. Es geht um die Erde, den Frieden und um eure Wünsche. It's about the earth, the peace and your wishes. Si tratta della terra, della pace e dei vostri desideri. C'est pour le monde, la paix e vos vœux. Bis morgen, oder bis Donnerstag. Yes, hope to see you on Thursday. Bye bye. Tschüss. Yes. Ciao. A la prochaine, ou a demain. Au revoir. Quindi ci vediamo giovedì, la data è scritta sotto. Ciao. Tschüss. Bye bye. Au revoir. Ciao.